La pandemia è mutata in endemia, ecco perché è necessario coordinare il passaggio da una gestione di tipo emergenziale del paziente positivo ad una presa in carico sostenibile per il sistema ospedaliero regionale. L'Agenzia Sanitaria Regionale ne ha preso atto e ha modificato le linee guida. Le strutture nate per accogliere i positivi non avranno più personale dedicato ed esclusivo, i pazienti ricoverati per altre patologie e risultati anche positivi al covid saranno gestiti dai rispettivi reparti di riferimento. I positivi sintomatici ogni volta che sarà possibile verranno seguiti a domicilio da strutture apposite. In ospedale sono poche le persone che hanno bisogno di un'assistenza per il covid, sono più persone che vengono ricoverate per altri motivi e poi si scopre improvvisamente che sono anche positivi al covid. Noi abbiamo regolamentato in maniera diversa l'accesso e la distribuzione di questi malati in ospedale, oltre a regolare anche diversamente la sorveglianza sanitaria. Abbiamo superficializzato l'attenzione al covid per i pazienti non fragili, mentre per i fragili rimangono le stesse precauzioni che avevamo deliberato tempo dietro. Le strutture nate per il covid, i covid hospital, che fine faranno adesso? La ringrazio per la domanda. Le strutture nate per il covid resteranno ancora a essere per il covid, nel senso, però cambierà la gestione, nel senso che se prima avevo dei malati covid che mi venivano ricoverati in queste strutture covid e in queste strutture c'erano dei medici diciamo deputati, adesso tutti i malati covid che verranno a ricoverare in strutture covid sono a carico dell'unità operativa accettante. Mi spiego, se uno viene ricoverato per fare un qualsiasi intervento chirurgico e si scopre casualmente che ha il covid, questo andrà in area covid ma a carico di chirurghi, non a carico di un pool di medici dell'area covid. Novità anche sul tracciamento e sui tamponi. È opportuno utilizzare non più i tamponi molecolari ma i tamponi antigenici di questa generazione. Certo, deve rimanere una certa dose di tamponi molecolari proprio per il tracciamento a livello ministeriale e questo verrà fatto sui fragili, sulle patologie oncomatologiche e sui malati veramente molto fragili. In occasione della presentazione di queste nuove linee guida regionali è stato anche illustrato l'avviso pubblico per l'individuazione e la formazione dei nuclei di controllo che dovranno verificare idoneità e appropriatezza delle strutture sanitarie regionali, sia pubbliche che private. Un avviso finalizzato al reclutamento di professionisti di medici che saranno sul nostro territorio per quanto riguarda la verifica e il controllo delle prestazioni sanitarie sia da parte delle alz che dei centri delle cliniche accreditati e dei centri accreditati. Questo serve perché già stabilito da una legge regionale andremo a istituire un elenco di medici che saranno attivi su tutto il territorio per quanto riguarda questa finalità importante di verifica e controllo delle prestazioni.